Qualche numero chiave del magazzino, il magazzino Amazon di Novara, avrà una superficie di 60.000 metri quadri e organizzato su tre piani. Il sito è stato un investimento dell'azienda di 150 milioni di euro. Sono previsti assunzioni fino a 900 persone a tempo ineterminato nell'arco di tre anni dall'apertura. Infine, a livello di tempistiche, prevediamo di aprire il sito tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Il sito di sostenibilità, che per noi rappresenta, insieme alla sicurezza, una delle priorità per l'azienda. Il sito ha risoluto la certificazione internazionale BREAM di VEIGUT a livello di impatto ambientale. Il magazzino sarà gestito con un sistema chiamato in inglese BMS, che gestisce l'efficienza del magazzino affinché i consumi possono essere ridotti al massimo. Installeremo un impianto fotovoltaico di 1 MW sul tetto del magazzino stesso. Infine, è prevista la riqualificazione di 9 ettari di bosco in zona. Per quanto riguarda le candidature per il sito Amazon di Novara, ci sono due opzioni. Per tutta la parte di responsabili, invito a visitare il nostro sito Amazon.jobs. Per tutto quello che invece è il personale e gli operatori di magazzino, sempre tramite il sito internet, lavora con Amazon.it. Abbiamo visto che dall'avvento della tecnologia robotica, in realtà, l'azienda ha continuato ad assumere e crescere. In questo caso sia un buon segnale di come i temi possano assolutamente andare insieme, in parallelo. Il sito di Torino, di Torrazza, è una realtà. Il sito di Novara lo sarà, speriamo, altrettanto. Il sito di Torrazza, è una realtà.